tutti gli interventi che hanno fatto e quant'altro. Lo ringraziamo ancora per l'intervento. Abbiamo fatto questa prima parte, quindi abbiamo parlato di questo grande polmone che è Capo dei Fiori, che prende, che si entra a tutte le nostre acque, quindi si fa una grande cortesia. Continuiamo e andiamo a vedere dove tutta quest'acqua che viene citrata va a finire e la tratta. L'artomento viene illustrato dall'ingegnere Nassone Perlario. Buon appetito, 5 Stelle, Varese. Come vi ho detto, tra una parte di Aspen e tra una parte invece di proposte del movimento. La parola a Massimo, grazie. Grazie, grazie mille. Finito, allora abbiamo invitato Aspen, ma venire a spiegarci che cos'è l'acquodotto di Varese, però loro hanno gentilmente fornito tutte le informazioni necessarie. Ringrazio anche il compito a Varese che mi ha consentito di prendere contatto per avere tutte queste informazioni. Grazie. Vedi pure la luce. Allora, Aspen ci ha ponito questa presentazione che ne diamo brevemente assieme e che dà un'idea di che cosa è l'acquodotto di Varese e come è fatto. Aspen, come vedete, non serve solo Varese, la città, ma ha un comprensorio di acquedotti esteso che comprende 34 comuni con 220.000 abitanti residenti, una serie di pozzi, 1.100 chilometri di rete e vedete ci sono 19,3 milioni di metri cubi di acqua erogati all'utenza. Alla prossima, ok. Allora, questo invece, in questa tabella si vede più in dettaglio che cosa significa l'acquodotto per la città di Varese. Per la città di Varese l'acquodotto significa 315 chilometri di rete, sono 13.799 clienti attivi, con una portata medio-oraria su 24 ore di 388 litri al secondo o 12 milioni di metri cubi all'anno. Ancora? Ok. Come vedete è importante sapere che l'acquodotto di Varese in realtà non è un acquodotto, ma è una rete di acquodotti interconnessi tra di loro. Sono 16 impianti gestiti da Aspen, i comuni li potete vedere, e poi ci sono 5 impianti non gestiti da Aspen, che comunque fanno parte di una rete di acquodotti interconnessi. Qui intiamo nel merito della questione perché vediamo praticamente da dove viene l'acqua che beviamo a Varese. L'acqua che beviamo a Varese viene per il 28%, quella immessa in rete, viene dalla beve, la di cui ne vedremo più avanti il significato. Il resto, il 72% viene da altre fonti, ma in particolare principalmente dalla sorgente che c'è alluminate. Quindi qui siamo proprio alla base del campo dei fiori, dove l'acqua che il dottor De Nascoli ci diceva che filtra dentro la montagna e poi riaffiora, riaffiora tra gli altri posti anche alluminate, dove viene presa e poi messa nell'acquodotto. Un'altra sorgente molto importante per l'acquodotto di Varese è la sorgente Fè, che è proprio lì a Vadorona, vicino a dove c'è anche la sede di Aspen, quella giù sotto a Vadorona. Qui salpiamo da avanti. Questa è un'interessante vista dall'alto della Valle della Levera. La Valle della Levera, per chi non lo sapesse, è giù dove c'è la motorizzazione civile di Varese, dove c'è il Vibera. Qui c'è sempre il suo Viterese che probabilmente saprebbe dirci tantissime cose su queste cose perché è interessato. Comunque vedete, in rosso sono i pozzi e in blu sono le sorgenti. In giallo vedete una stazione di sollevamento. Sostanzialmente i pozzi sono dei tubi che vanno, ci spiegavano da 70-150 metri nel sottosuolo e captano l'acqua, poi l'acqua viene portata in superficie e convogliata alla stazione di sollevamento che la manderà poi a Varese. Interessante che oltre ai pozzi in profondità ci sono nella Valle della Levera delle sorgenti sulla superficie, solo dei affioramenti, dove Aspen capta, sempre convoglia al sollevamento e manda sull'acquedotto in città. Aspen ci tiene a fare vedere come vedano le loro fonti, in particolare qui alla Vella. Ci hanno spiegato che ci sono innanzitutto le opere di scuola assoluta che sono descritte bene ma sono un po' limitate forse, nel senso che attorno ad ogni pozzo sorgente viene creata una zona di 20 metri di diametro dove praticamente si evita che l'acqua che si infiltra in quella zona vada direttamente poi ad essere captata, quindi viene allontanata dal punto di captazione. Poi ci sono delle zone di rispetto e delle zone di protezione. Questa qui è una zona di rispetto, dove dentro vedete i pozzi, più a monte, su verso Belmaio, ci sono le zone di protezione, dove cosa Aspen sostanzialmente dice che in queste zone e c'è tutto un allecco di cose che non si possono fare. In particolare qua a monte, chiaramente i regimi delle foglie devono essere una doppia camera e fatte in una certa maniera. Un'altra iniziativa che a noi sembra molto interessante è che Aspen ha acquistato i terreni circostanti a tutte queste zone della Vella dove c'è la captazione. Possiamo vedere nelle slide successive, vedete, i terreni tratteggiati nella Vella della Vella sono stati acquistati da Aspen. Anche la prossima sempre si vede che Aspen ha messo in sicurezza le proprie proprietà e il bacino di captazione. Ancora? Ancora una? Ok. Vabbè, poi Aspen ci ha spiegato che naturalmente loro fanno una serie di controlli che sono poi in realtà 12 campagne di controllo annuale dove chiaramente vanno a verificare di essere assolutamente una norma di legge, più fanno dei monitoraggi per enti preposti e anche eventuali analisi richieste da utenza. Ancora? Ok. Questo è un altro concetto curioso e importante soprattutto dell'acquedotto e della Vella perché per come ci hanno presentato in Aspen la Vella fornisce acqua comunque sempre a un livello minore della propria capacità luminale perché? Perché sostanzialmente la Vella è il backup, è una riserva di supporto. Quando aveva resa di uno i periodi di siccità alcuni degli acquedotti, dei pozzi di captazione del sistema vanno in crisi e non forniscono più acqua ed è in questi momenti di siccità, nei momenti di difficoltà dove si ricorre alla Vella che è sempre comunque un serpatoio molto ricco e che prima di abbassare il proprio livello deve essere messo molto sotto utilizzo. Quindi è una riserva importantissima. Vabbè, quindi puoi saltare. Perfetto, adesso andiamo su quell'altra. Quindi, quello che abbiamo visto adesso era Aspen che gentilmente ci ha spiegato come sono Fanzi. Noi, come nell'ottica del principio della cittadinanza attiva abbiamo poi fatto le nostre domande e abbiamo cercato di mettere a fuoco a questione stimolando anche Aspen a dirci che problematiche ci sono dietro la gestione dell'acquedotto. Innanzitutto siamo andati a vedere quali sono gli assetti societari perché effettivamente c'è una rete, c'è un acquedotto ma chi è? Chi la gestisce? Chi la controlla? Vabbè, Aspen SBA che fa distribuzione d'acqua appartiene al 10% al comune di Varese dal 2009, credo ma soprattutto appartiene al 90% a A2A. Chi è A2A? A2A SBA appartiene al 55% al comune di Milano e al comune di Brescia erano le vecchie municipalizzate e le due comuni che si sono messe assieme. Poi c'è una quota sul mercato che è votata anche in borsa quindi è un operatore comandato da un pubblico però con le dinamiche classiche di un'azienda privata perché è sul mercato. Un altro soggetto, attore importante è Aspen Retti perché è importante Aspen Retti? Aspen Retti è il proprietario della rete il tubi, l'acquedotto, il tubo, tutte queste cose il proprietario è Aspen Retti che fortunatamente è al 100% proprietario del comune di Varese quindi la rete è nostra. Poi c'è un altro soggetto interessante che è Rearbi Servizi Rearbi Servizi appartiene al 12,47% ad Aspen più dentro la società ci sono altri comuni eventi Rearbi Servizi eroga soprattutto servizi di depurazione per esempio se voi andate giù vicino all'inter e vedete delle vasche circolari con delle strane macchinate che girano sono dei depuratori dove viene sostanzialmente depurata l'acqua dell'olona che nasce tanto puro però dopo pochi chilometri e già è grattato e lì c'è già bisogno di una depurazione. Tra i servizi inoltre fa anche il servizio di erogazione indica per certi comuni. C'è un altro concetto che è il servizio idrico integrato quando sentite parlare di servizio idrico integrato non si parla solo di acqua da bere è il ciclo dell'acqua diciamo di un utilizzo civile completo dalla cattazione, l'erogazione alla distribuzione e poi anche il recupero quindi la fognatura, la depurazione e le acque regue. Entriamo quanti più nel dettaglio con l'autorità d'ambito. L'autorità d'ambito è una struttura a livello provinciale il suo ruolo è divarare il piano d'ambito con possibilità di scopo successivo tra la proprietà della rete e la sua gestione. Questi sono concetti che mi servono per capire quello che segue dopo. Quindi l'autorità d'ambito è un'autorità provinciale che deve parare e attuare il piano d'ambito. Cos'è il piano d'ambito? Sostanzialmente voi sapete che se uno pensa strategicamente a quello che dovrà fare dell'acquedotto negli anni a venire dovrà mettere in fronte sicuramente delle manutenzioni, dei potenziamenti, tutta una serie di investimenti. Il piano d'ambito significa dire benissimo noi facciamo un piano a 50 anni dove stabiliamo che in questa acquedotta avrà bisogno nel corso degli anni di questi investimenti. Fatto il piano d'ambito, a ritroso, si calcola la tariffa perché nella tariffa dell'acqua voi pagate l'acqua, il servizio e poi dovete pagare anche il fatto che l'acquedotto deve essere mantenuto e deve essere potenziato fatti gli interventi che vanno fatti. Anche la decorazione? Anche la decorazione? Sì, ma questo è quello che non c'è. Grazie. Per cui, questo è il piano d'ambito. Il piano d'ambito è importante perché dentro il piano d'ambito che deve fare l'autorità provinciale d'ambito c'è il piano delle tariffe da fare. Proseguiamo. Nel nostro discorso con Aspen abbiamo affrontato il tema della dispersione. L'acquedotto di Varese nel 2010 ha perso, diciamo, il 38%, questo è un dato visita confermato da Aspen, Aspen ha 35, quindi vedete che sostanzialmente il numero c'è. Ha disperso il 38% dell'acqua e messa in rete. Nel 2009 la vera era più bassa del 31%. Aspen conferma la tendenza alla dispersione è in aumento. Allora siamo andati nel dettaglio a vedere ma cos'è la dispersione dell'acquedotto di Varese? Sostanzialmente di questo 38% il 10% sono quelle che vengono definite la mancata fatturazione o la mancata contabilitazione. Ci sono sostanzialmente il fatto che i contatori ci hanno spiegato e impecchiando segnano a favore dell'utente. Sostanzialmente dentro c'è una fatturina che gira e impecchiando probabilmente gira più piani conta meno acqua conta un po' o tre per aggetto. C'è il discorso per esempio degli nanti per l'antincendio. I bombieri vietano di montare su una bocchetta antincendio o sulle vie dell'antincendio dei contatori. Questo ha due implicazioni. La prima implicazione è che se uno vuole fregare l'acqua all'aspero si attacca a una bocchetta antincendio da qualche parte non c'è contatore e la frega. La seconda implicazione è che se tu hai un impianto antincendio che perde acqua e succede spesso non lo sai perché non hai un contatore che te lo dice e questo conta un altro 2-3%. E poi c'è un 2-3% di acqua non contabilizzata che quando Aspen fa le sue manutenzioni per trovare levare la sabbia dai punti di raccolta insomma per tenere pulito l'acqua e il conto sostanzialmente sversano dell'acqua ma è una cosa fisiologica che devono fare per tenerlo pulito quindi del 38% diciamo il 10% è non contabilizzata ma almeno viene utilizzata il 28% invece viene trattata via viene dispersa questo significa facendo i conti che più di 3 milioni di metri cubi di acqua vengono captati e questo è il problema questi vengono captati anche a 70-50 m di sottoterra pompati trattati e mandati su in città per poi venire dispersi facciamo due conti considerando un costo medio di 0,40 euro al metro cubo una spiva il danno stimato è di 1,2 milioni di euro all'anno come perdita di acqua non non fornita cioè acqua estratta non fatta trattata e non pagata perché è andata a bersa questo è un punto molto importante questo qua le ha chiesto come mai Aspen sostiene di non ricevere fondi per contenere il problema in quanto le tariffe sono ferme dal 2002 per via della mancata attuazione del piano d'ambito ecco che torna il piano d'ambito da parte della provincia e regione cosa succede qual è il meccanismo Aspen per riparare le reti deve investire dei soldi siccome Aspen è controllata da AWA che è un'azienda come tutte le aziende che quando mette un capitale vuole vedere il motivo per cui lo mette sostanzialmente lo vuole renderato Aspen nella gestione dell'acquedotto perde tanti soldi perché non è un dato facilmente rincracciabile ma è stato accettamente ammesso che c'è una grossa perta economica cosa succede quindi che Aspen ha una gestione dell'acquedotto in perdita AWA non dà i soldi a un'azienda che ha già una perdita perché sarebbe come dare dei soldi a uno che già perde i soldi e ne perderebbe ancora di più Aspen perde i soldi perché le tariffe non sono state mai aggiornate chi è responsabile di fare le tariffe l'autorità d'ambito prima chiamata A adesso sono chiamate l'autorità d'ambito quindi questa è la problematica però questo è il caso che si muove la colla perché Aspen dice che le manutenzioni provvisorie in questo prima di povertà Aspen si chiama che c'è un buco non va a cambiare tutto l'acquedotto ma sostanzialmente va a riparare il buco le manutenzioni provvisorie sono appunti fatte più costose delle riparazioni definitive perché ti spedi poco oggi ma dopo due giorni sedi in metro che avanti preparano l'autorità quindi qui c'è una linea d'azione prima che questa sera che il Movimento 5 Stelle chiedrà in sede comunale il motivo per cui il piano d'ambito e di conseguenza il ragionamento sui tariffe e sugli interventi non sia ancora stato ultimato ed attuato quindi discutiamo la successiva questo è un tema che per noi il Movimento 5 Stelle è molto caro quando se niente parlare del chilometri zero giustamente il dottor Nascoli prima prendeva l'acqua si cremeva guardava da dove viene anche l'acqua che viviamo quando apriamo il rubinetto non è un'acqua chilometri zero come cremiamo perché l'acquedotto di Varese ha un profilo orografico complesso Varese va dal lago che ha 200 metri fino al campo dei fiori 1200 euro quindi un profilo orografico complesso i costi di sollevamento dell'acqua sono enormi Aspen non ha precisato la bolletta dell'elettricità di quanto pagano per pompare l'acqua per esempio dalla bebra sui città ma ha parlato di diversi milioni di euro io penso che la bolletta della luce di Aspen ha creduto sia veramente alta questo significa che ogni volta che apriamo un cubinetto bruciamo un bolo di carbone voi sapete che la corretta l'integra in Italia è un sostanzialmente di carbone e gas di grosso binario se poi consideriamo che parte del lavoro di sollevamento è vanificato dalle perrote capiamo che la possibilità di miglioramento sono enormi ridurre sprechi di grandi dimensioni implica generare delle grandi problemie prossima quindi noi veniamo con due proposte sostanzialmente la prima proposta è per contenere i costi di sollevamento dell'acqua riduzione del costo energetico della rete tramite il ricorso sempre maggiore a fonte rinnovabili c'è un consumo di elettricità ci sono degli spazi di proprietà Aspen si possono montare degli impianti fotovoltaici che possono ridurre il costo della bolletta per Aspen la seconda iniziativa che proponiamo è sul discorso del contenimento delle perdite adozione di un programma di manutenzione che riduca progressivamente la dispersione con conseguenza risparmio energetico ed il se il tubo su un varese non perde l'acqua che tu compie a varese resta quindi non è che devi montare di più per sopperire allo scasso vendimento chiaramente in coro ad Aspen quando io ho parlato di queste proposte mi ha detto con i soldi lo facciamo che non abbiamo neanche i soldi per piangere e qui è la nostra proposta di contorno le risorse finanziarie noi solleciteremo il comune a proporre strumenti di finanziamento moderni degli studi e delle opere ci sono dei sistemi di finanziamento per esempio io sto parlando della possibilità di fare delle società che si chiama delle ESTO Energy Service Company sono degli strumenti che permettono a un ente di un'amministrazione a un comune che vuole fare un intervento di risparmio energetico di finanziare l'intervento pagando l'intervento con i risparmi che ottiene facendo per esempio il fotoportale quindi faccio un esempio a spevare una colletta robusta della corrente elettrica usa questi sistemi finanziari che ci sono adesso a disposizione e praticamente senza mettere il capitale perché il capitale lo mette praticamente il partner tecnologico che interviene senza mettere il capitale a spend praticamente vengono introdotti tutte le migliorie che abbiamo elencato che generano sicuramente dei risparmi i risparmi generati serviranno per pagare l'intervento e l'investimento fatto per migliorare la questione dell'acquedotto io avanti una questo non entro in dettaglio perché magari chi vuole un pochetto vedo altro avanti ancora una mi ringrazio grazie grazie ci siete tutti tutti ci vedete sì ancora non ce n'erano allora due secondi soltanto che dietro preparo un attimo no gli interventi io direi che li venivano notati mentalmente o fisicamente come se del puglio o qualche parte di contestare tutti alla fine voglio cercare bene non tenere qualche di andare via allora puoi delegare qualcuno voglio che faccio due percezione sono cose interessanti dal lato dal mio punto di vista dal lato tutto il discorso fatto sulla normativa discente da una direttiva comunitaria che in vigore del primo anno 2000 la direttiva comunitaria che a tutti i paesi della comunità europea ha riorganizzato il sistema aerodinico come il sistema integrato facendo un ciclo complessivo dalla captazione alla restituzione con acque che devono essere atteguite con un certo tipo di qualità anzi la direttiva comunitaria crede che dentro i prossimi dieci anni tutti i costitati italiani devono avere acque con un livello più qualitativo estremamente buono obiettivo che sarà obiettivamente abbastanza difficile da raggiungere perché ancora più aspetti sulla fase conclusiva del ciclo dell'acqua quindi della depurazione non sono ancora stati messi a punto tant'è vero che un'altra considerazione è questa se non altro se da un lato quando c'è una perdita d'acqua dall'altro c'è una perdita economica che è sicuramente grave consoliamoci perché l'acqua non è che finisca nello spazio estremo della nostra sianetta torna nelle pante e terzo dal punto di vista economico non viene recuperata a livello di sistema delle pante superiore si quello che si attivano Massimo è l'inutilità in questo giro di prendere la guarda la c'è 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 lo spreco economico chiaramente quell'acqua torna sui aspetti emergenti ci separiamo un'altra volta di una serata è molto un'altra volta di un'altra grazie Valerio subito la parola a Pietro Cicculti il microbiologo grande esperto dell'aula di Varese ha collaborato con l'università a mille studi potete guardarvi un po' la sua storia ha fatto cose molto interessanti la parola grazie a lei una cosa veloce Giancarlo voglio i cartelli Campo dei Fiori a Casciago visto che sto uno di quelli che ha rotto le balle a voi per fare il parco a Casciago con Provedani e compagni